Questo giro la palla, cerca il passaggio ma non trova la precisione, se ne va, vede lo scatto e cerca la profondità, Roberto Baggio, un gol capolavoro! Una dichiarazione di intenti Fabio più che un gol, il capitano mette le cose in chiaro e suona la carica con questo gol, vuole vincere a tutti i costi. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto! Non poteva esserci altro finale per questa conclusione da Maestro. Dopo 6 minuti è il numero 10, Roberto Baggio!